Io l'ho detto, la priorità per me è mandare a casa Renzi e un governo che è pericoloso, perché questi dal mio punto di vista sono assolutamente socialmente pericolosi. E quindi pur di mandare a casa Renzi io sono disposto a mettermi un tavolo anche per 36 ore di seguito e a spaccarmi la testa, ma a ragionare con chiunque preveda un'Italia alternativa a Renzi. In prima guerra si vota a Roma, a Milano, a Torino, a Bologna, a Napoli e quindi sarà un voto politico e quindi cercheremo di fare alleanze ovunque sia possibile. Però lo ripeto, non a tutti i costi. Se mi propongono a Milano come a Roma, come leggo sui giornali, qualche vecchio trombato e riciclato, io vado da solo perché non ho bisogno di sostenere... Se mi propongono un progetto nuovo, anche con gente esterna ai partiti, io come Lega posso anche fare un passo indietro. Non lo conosco, non do un giudizio. Però quelli che si annunciano come salvatori del mondo, pronti a dialogare con tutti dalla destra alla sinistra, o sono veramente dei geni o sono dei venditori di fumo. Perché non è possibile mettere dentro nello stesso contenitore per amministrare la stessa città chi difende i campi Rom e chi vuole sgomberare i campi Rom. Chi vuole aiutare i commercianti e chi invece vuole massacrare i commercianti. Quindi io spero che ci siano alleanze le più vaste possibili con candidati anche non necessariamente con tessera di partito in tasca. Non voglio un leghista a tutti i costi. Quindi se mi propongono un'ottima persona a Torino, come in Milano, come a Roma, anche se non ha la tessera della Lega, ma se io la valuto a una persona in gamba, seria, onesta e coerente, io la sostengo, sarà un voto politico.